Matteo Battocchio, un esordio partito un po' in salita siete riusciti a rimetterlo in sesto e a vincere la partita? Sì, secondo me forse più che un esordio in salita è stato un esordio difficile, come un po' tutti gli esordi, contro una squadra che ha giocato molto bene. Insomma, una squadra che ha vinto i gironi di qualificazione con risultati importanti, quindi sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo fatto magari qualche imprecisione, non da noi, ma poche, a dire la verità. Loro hanno giocato molto bene e noi siamo stati molto bravi a vincere contro la squadra che ha giocato molto bene. Domani sera c'è la Francia, che avversario ti aspetti? Un avversario molto forte che oggi ha perso 3-0 e deve assolutamente vincere domani per rimanere in corsa per le semifinali. Sappiamo che ci sono due giocatori di primissimo livello e dobbiamo pensare a giocare noi. Grazie.